bella ragazzi oggi non faremo un video come al solito su un gameplay bensì tratteremo di battlefield 4 ora farò diciamo un piccolo commentino su battlefield 4 vi informerò di alcune notizie e rumors trovati sul web alcuni dei quali molto interessanti dopodiché vi farò vedere i 17 minuti di gioco che la dice ha rilasciato su battlefield 4 allora battlefield 4 è naturalmente il seguito di battlefield 3 la data di uscita non è ancora certa diciamo la cosa più probabile che esca in autunno quella una cosa quasi ovvia cioè quasi certa diciamo il mese più probabile ottobre alcuni dicono già il 23 quindi alcuni dicono già il giorno però chiaramente è una data abbastanza variabile perché magari insomma potrà essere ritardata di qualche di qualche giorno di una settimana l'uscita per mettere a punto alcuni problemini magari che si di quegli sviluppatori si sono accorti allora la cosa che più colpisce naturalmente che ci sarà il frostbite 3 che il nuovo motore grafico della dice dunque quindi la grafica sarà molto migliorata il gioco naturalmente sarà più pesante quindi diciamo ci vorrà un computer migliore per farlo girare bene ma per il resto diciamo per le console sembra che esca solo per le console di nuova generazione quindi playstation 4 e xbox 720 sono diciamo trovato alcuni rumors su internet abbastanza interessanti allora sembra che miglioreranno il sistema di tracciamento delle statistiche e dell'integrazione con il battle log che evidentemente in battlefield 3 non era poi così così perfetto dunque sembra che integrino una funzione di video playback e condivisione video non so bene cosa sia ancora però sembra che chi ha una console e ha un canale youtube e vuole registrare un gameplay su battlefield 3 adesso naturalmente sarà su battlefield 4 questa funzione però io vi faccio l'esempio con battlefield 3 appunto chi vuole registrare un gameplay su battlefield 3 non deve necessariamente comprarsi un hd pvr per registrare bensì potrà farlo direttamente dalla console però diciamo non è ancora certa questa cosa e neanche le caratteristiche di questa funzione allora una cosa certa detta proprio dalla dice è che verrà integrato il soldato anna che è il soldato di sesso femminile sia online che in single player una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso di cui molti di voi diranno e ma sì ma dai ma non sarà mai vero o alcuni diranno wow che figata però non è ancora certo ci saranno tre fazioni quindi ci sarà russia e stati uniti d'america come in battlefield 3 verrà integrata la terza fazione che sembra sia la cina però insomma è una cosa abbastanza strana che ci sia tre fazioni ecco non si sa insomma è abbastanza vago come come rumors dunque verrà sicuramente appunto migliorata la grafica quindi gli effetti particellari ad esempio l'infiltrazione dei raggi del sole in una stanza quindi si vedono i raggi magari anche la polvere quindi tutte quelle particelle lì anche verranno migliorati i riflessi quindi ad esempio quando si magari si sta girando e si arriva su una spiaggia sarà molto bello l'ambiente con il riflesso del sole e tutto e vabbè il motore fisico naturalmente era già molto fatto veramente molto bene in battlefield 3 perché ogni cosa praticamente ogni cosa si poteva rompere in battlefield 4 magari migliorerà ancora un po chi lo sa poi come veicoli dai 17 minuti di gioco non ho visto veicoli nuovi però magari ce li vogliono tenere in serbo per diciamo come sorpresa per quando uscirà battlefield 4 non si sa perché dai 17 minuti di gioco ho visto un venom l'elicottero di trasporto americano che era già presente in battlefield 3 la voc che è l'elicottero d'attacco russo anche quello c'era già in battlefield 3 e si è visto diciamo una jeep che si non è cambiato molto quindi non è che ci sono delle nuove armi sulla jeep però magari da quello che ho visto sembrava un po cambiato il design della jeep quindi sarà un po diverso ma niente di che ecco velocità sarà più o meno sempre quella non cambia niente bene quindi mi sembra di avervi detto tutto direi di sì iscrivetevi al mio canale mettete un bel mi piace per farmi sapere se questo video vi è piaciuto anche se vi è piaciuto un commento e vi lascio vedere i 17 minuti di gioco di battlefield 4 ciao a tutti ciao ciao Oh, come on. Hey Irish, mapatissi che hai in barco? Nakedins dead, Sergeant. Hey Rekker, Rekker, you conscious? Get back in the game, man. Stay with me. Nice play, Rekker. That is some of the finest driving I've ever seen. Right there until the end. Hit the light pack. Oh, shit. The seat won't budge. Grazie a tutti 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 On the move That's the building It's more the capital building Yeah Two smokestacks Straight across Let's go Let's go Let's go Let's go Fuck look They've seen us Let's go Let's go Tombstone actual This is firebolt 2-1 We're inbound What's your ETA We're inbound We're inbound We're inbound We're inbound We're inbound I'm reading Molti's Signature's Got you Got more targets ahead Here they are That's the gun Rush We're inbound We're out We're inbound We're inbound Good Keep up the pressure Let them have it We're inbound We're out We're inbound Sì, sì, sì. All right, let's go! Send me targets. Got that record? Designate your record! Record, you got it! Oh, fuck! Hey, you got more heat signatures on the ridge ahead. Okay, give us your targets. Got that! Receive these! Let's go! Affirmative! Copy that. Engaging. Pass, we're neutralized! Nice shooting, Tombstone. See you guys on the roof. Don't keep me waiting. Roger that. We'll be there. Clear. Corners, guys. Double time it to the roof. This rickety old place creeps me out. Yup. Does a real shitty job reminding me of home. Keep quiet. Stay alert. Find a way up the car. This shit is the best way up? It's the fastest. No time to explore any options. Wait till you see the terrace view. Oh, I expect to be blown away. Shut up. Eyes peeled. Oh, shit. Tombstone actual. Radar's lighting up. We got hostile air. Shit, she's lighting up. Over there! Enemy of your helicopter! Oh, fuck! Get out of your house! Son of a bitch! Son of a bitch! Get out! 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 Hold up! How blue is this? Shit, this is tough. Now run! Tombstone actual, where the hell are you? Blood floor. Running. This thing won't hold a bar of smoke. It's backing off. It's done. Get everyone in the chopper. Now! Get in here now! The building's unstable! They're not here! They're on control! They're on control, then. And unfortunately the treasurer's Tell it's tricky. They're all not here. They're in control. Cause the hull of us... Oh shit. You okay, man? Pack, any side of Hawkins and the rest of the crew? No one survived that. Get done away from the wreckage. I can't. He's buried. Try. I'm over here digging up Wrecka. My leg. Oh, man. Oh, man. Jesus Christ, his leg looks like pop sausage. You're gonna be fine, Don. You're gonna be okay, man. We're gonna get you out. Pack the fuel. Yeah, I know, I know. Stop. Wrecka, cover me. Get out. Get out now. Get out. Please. Please. I'll help you. No, no, no. Please. No, you have to get out of here. It's not safe. Fucking civilians. Wrecka, I need your knife. We're four staff, Sergeant. We gotta cut the leg. We gotta do what? Wrecka, come here! Get over there, Wrecka. I got this. Go! Wrecka, I need your help. A wolf stuck in a trap that would chew off its own leg to survive. Come on. The bone's powder. Just flesh and uniform keeping me here. Do it. Cut it now. We gotta go. Is he dead? He's not dead. He's just passed out. You're the combat lifesaver, man. You should know this, Pat. It was like a three-hour course. He's coming down. 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 Let's go. Let's go. Chopper's coming back around. Let's go. Hey, this Asperjohnny's all right, huh? Come on. He. You're gonna be okay, Dunn. You're gonna be okay. We're gonna get you out. You're gonna be okay. It's gonna be okay, mate. He's the boss, man. You're damn right. It's gonna be okay. Let's go. Wreck-a, take the wheel. Anybody. Step on it, Wreck-a. Let's go. Fortress, this is Tombstone. Our evac is gone. Need another way out. Do you copy? Fortress is tracking you. Secondary extraction in route. Follow the road. Three clicks west. Speed up, Wreck. Dunn's going into shock. You see that? Watch out. It's too close. Step on it, David. It's lighting up. Oh, fuck, no! Burn those motherfuckers! Fire! Fire! Sì, Domestone ritrovi l'intel. E? Le russi sarebbero loyali all'apertura. Confirma un reporto di un'assieta in Cina. Quindi, Stav Sargent Dunn con KIA per qualcosa che già conosciamo? Hai le ordine, Capitano. Affirma. Capitano, steaming towards the east coast of China. You'll back me up, right? Grazie. 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 Grazie.